e allora che mi hai fatto sto sito? ma dovevo fare una cosa non fate 10 va bene però la cosa positiva è che sei velocissimo a fare tutto quindi no una cosa non sono veloce un offendere secondo me pure la poi questo lo giudica la titti io fa la camera man non mi posso esprimere ma che dici un saluto alla nonna lo facciamo? no se no mi manda a quel paese niente non mi manda un saluto alla nonna la nonna si saluta come si chiama? come si chiama? il lote non sanno come si chiama la mamma e la nonna ma lo diciamo? lo diciamo? certo e va da là siciliana hai capito? bellissimo può tirare a indovinare eh ma ci vuole il tocco di classe però eh quando sanno tirare la nonna il tuo tocco di classe ci vuole nonna fischia grande mire allora che c'è fatto mi spiego io un attimo io lo devo spiegare io ma il meccanico io lo spiego io allora chi ce lo spiega? io ti dico solo che non ho portato la campana della frizione quindi è già qualcosa quindi siamo a posto vabbè mire e tu sei il protagonista del video quindi sei te che devi chiacchierare sei l'antagonista va però fammi infilare prima e da quando sono venuto che parli di io lo so comunque va bene è concentrato eh? eh sì lo devo agguantare ha preso prima di anche la guaina è corta tutto corto qua io non filavo ma mi pare corto eh no la guaina è corta vabbè su un tappellino più lungo almeno anche questa è corta tutto è corta sono? cioè tutto corto sì mi dispiace per te ma me ne farò una ragione che devo fare? vieni qua mi dimmi il nome? Marco Marco vieni qua un attimo guardi il buco guardi il buco questo è corto direi ma mi ritieni la guarda non ucciso guarda non muoce molto corto non mi limmi il buco guardi il buco questo è corto direi ma si ti interventi ma sei anche o che te fai del meccanico o lavori con con Rocco? e io lo so no guarda non lo so ma non si capisca lo simpatio no oh forza non ti affare i piedi con il cuo comunque è quasi pronto c'è messo nulla 5 minuti per smontare e montare un motore fa paura sembra peggio di speedy gonzalez ma che fai? me lo tagli? te lo taglio perché te ce la corto e questo deve essere corto una porta era lungo? lo taglia mi fa un piacere no? no perché mia mamma per far piacere a mio padre sono andato io quindi io piacere non mi faccio ascolta mi devi salutare Matteo Magoni di Brescia castelzato castelzato eh buona domani lo dico castelzato castelzato Brescia eh va bene allora un salutone a Matteo Magoni di Brescia ciao da setta in gamba troppo forte che dove fai il presentatore? va bene nulla allora c'è fatto un motore carter che l'è? no no è di questo di quanto? avanza no non avanza in questo caso mi manca la roba motore albero lavorato carter lavorati DR65 Evolution 13 pari e ci monterà una sitino plus bellina tranquilla silenziosa motorino che va bene affidabile almeno può tornare dalla nonna ma è tutto qui? ci siamo? no no? allora senti fedele ah si chiama fedele lui eh ragazzi è fedele come a questo motorino fino a stasera fedele poi il mio nome d'arte è Saetta ma sicuramente qualcuno di voi mi ha riconosciuto penso proprio di no penso proprio di no penso proprio di no mi ha riconosciuto ecco questo Saetta e Mirelio vi augurano una buona serata no aspetta ciao ancora non è finito vede eh no eh Mire allora si? eh va bene ma che fai le finte Mire no un po' le finte va bene vai io finisco di attaccare tu quella benzina ragazzi a proposito chi ce l'ha a due bandine di questo modello questo modello qui quelle squadrate un po' sono rotondate però sono squadrate che ci ha puntato il parapolvere dietro però a variatore anche una me ne basta anche una per questo qui va bene meglio di così allora grande Mire e quindi io te le lascio queste eh lasciami che ci può nulla un saluto a tutti ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti